Fino ad oggi, alla fine della fiera, comunisti o socialisti, democristiani o post fascisti alla fine andavano poi a frequentare la stessa buvette, gli stessi ristoranti, gli stessi salotti e vediamo se succede anche con gli immigrati. Devo dire che ci sono già state anche in passato delle cose interessanti, vorrei ricordare la signora Cain che è stata la prima sindaca in assoluto di colore in Italia, è eletta udite udite con la Lega Nord, è cresciuta in paese, parla il dialetto locale, però quando conosci le persone è più facile parlarci.